Volevo solo sottolineare per chi ancora non l'abbia guardato, non l'abbia visto, non l'abbia avuto che questo 8 milioni, la collaborazione è di Antonella Renzulli che abbiamo presentato prima. Dentro c'è un mito che è Don Bacchi, il quale ci ha abbracciato nel senso di artistico della parola e partecipa con un grande piacere alle nostre iniziative.